Ci sono persone che sono meno fortunate di noi E che hanno bisogno del nostro aiuto Cerchiamo sostenitori di sogni Realizzane uno con noi Noi da soli non ce la facciamo, ti aspettiamo Allora, quando ci vediamo? Noi da soli non ce la facciamo Ottimo Amar, e a che ora ci troviamo? Alle 17 Più forte che non ci sente Alle 17 ci troviamo E dov'è che ci troviamo? Proprio qua E com'è che dovete essere? Belle 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 Puntuali Ok Ci vediamo qua In via Beato Pellegrino All'Irpea 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 Brave Con Laura E Omar E Emanuela E Mariana E Barbara E tanti altri struttori e tanti altri amici aspettiamo eh 19 mi raccomando vai il P.E.A. il via Beato Pellegrino a Padova cerchiamo sostenitori di sonno ci sono persone che sono meno fortunate di noi e hanno bisogno del nostro aiuto ci siamo siamo qui siamo all'Irpea Giovanni Leccese Marylinda Facciola Niccolò Marini colleghi cari siamo qui vi vogliamo presto a farvi conoscere scusa Giovanni Leccese non c'è l'ho detto è mio fratello grazie a tutti Grazie a tutti.